La qualità del gioco è alla base dell'idea che abbiamo e quindi l'idea è quella di giocare un calcio di qualità, anche perché questa squadra è abituata anche negli anni passati, ha giocato sempre un calcio di qualità e su quella linea vogliamo continuare. Se vogliamo parlare di James, James è un giocatore che conosco molto bene e che mette tanta qualità, purtroppo al momento non è ancora un giocatore del Napoli, magari non lo sarà mai un giorno o magari lo sarà, quindi parleremo di James il giorno che sarà del Napoli e parleremo di altri giocatori i giorni che saranno del Napoli. Se oggi un allenatore di un'altra squadra parla di un giocatore del Napoli non sarei contento e quindi non voglio che qualche mio collega sia scontento. Stiamo valutando tante opportunità perché la volontà della società è quella di migliorarla, la qualità dell'Arlosa in linea con lo staff tecnico. Quindi ci sono tante opportunità sul mercato che stiamo valutando e poi dopo ci sono, come sempre, nel mercato ci sono le possibilità, c'è più possibilità di prendere un giocatore, meno possibilità. L'unica cosa certa è che io non ho dato l'ok per l'accessione di nessun giocatore e la società, siccome che ho sentito che io avrei dato l'ok, no, la volontà della società è di tenere tutti i giocatori migliori. Dopodiché ci sarà la volontà di alcuni di questi giocatori magari di avere voglia di cambiare aria e saranno, diciamo, delle occasioni e dei momenti per valutare questo. Ma niente altro, la volontà è quella di migliorarla la squadra e la miglioreremo, ma da qui al 31 agosto hai voglia, c'è tempo, voglio dire.